buongiorno a tutti allora andiamo a vedere cosa ho combinato delle schedine e bollettine del weekend in cui praticamente è meglio sorvolare partiamo subito dalla schedina di cui ho azzeccato tra risultati su dieci quindi già questo vi dice come siamo messi quindi non chiedo venia chiedo benissima perché veramente uno schifo del genere non l'avevo mai fatto nell'altra schedinetta che avevo fatto delle dieci partite ne ho azzeccate almeno cinque su dieci diciamo che ho migliorato la media ma ncs non ci siamo poi vabbè se il Real Madrid mi perde in casa con Real Sociedad capite benissimo che già lì si capisce come andrà la giornata per quanto riguarda le bollettine la prima con le fisse ho già sbagliato Ibar Villareal quindi non sto a seguire le altre la seconda avevo preso Ibar Villareal ma ho sbagliato la Valleadori del Raio Vallecano quindi sorvolgiamo anche sulla seconda nella terza Ibar Villareal avevo messo gol più over quindi sbagliatissimo lasciamo perdere quarta uno più gol più over lasciamo perdere infine c'era quella successiva Ibar Villareal uno is più over già sbagliata quella quindi non sto a proseguire con le altre e infine c'era quella gol ospite gol casa Ibar Villareal è finita 0 a 0 quindi che me lo dico a fa velocissimo questo video perché veramente mi vergogno come un cagnaccio perché ahimè quando sbaglio mi cospargo come si suol dire la testa di cenere e chiedo vigna perché ahimè le bollette sono state una chiavica totale vedremo con la settimana prossima quello che offrirà il convento c'è anche la Coppa Italia speriamo di azzeccarne un pochettino di più io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao